pavana sambuca pistoiese mulino di chi con probabilmente uscì da quella porta lì verde qualcuno si era alzato a riscaldarli in fretta un caffè d'orzo non so se si girò non è era il tipo d'uomo che si perde in nostalgie da ricchi e andò per la sua strada senza